Trattamento bendaggi Applicazione bendaggi e presso massaggio Il trattamento con bendaggio può essere effettuato in diversi modi applicando il bendaggio con l'ausilio di presso massaggio oppure lasciandolo in posa 20-30 minuti e successivamente massaggiare il restante morbido gel fino a completo assorbimento Si tratta di bende monouso imbibite di un morbido gel Esistono tre tipologie differenti di bende da scegliere in base all'inestetismo da trattare Bendadren 01 Bendaggio ultradren contenente il 23% di sali del mar morto indicato per contrastare gli inestetismi epidermici in soggetti con ritenzione idrica Bendacelle 02 Bendaggio termoriducente che grazie alle proprietà riscaldanti e dalle sostanze funzionali in esso contenute è particolarmente indicato per contrastare gli inestetismi epidermici in soggetti con cellulite e o concentrazioni adipose Contiene esteri dell'acido nicotinico Bendarass 03 Bendaggio criorassodante che svolge nei confronti dell'epidermide un'azione tonificante, rinfrescante e defaticante Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori